È la storia di una donna che dentro di sé trova il coraggio per liberarsi. Mia nonna, in più occasioni, mi ha raccontato le vicende di questa Ava che insieme al suo marito aveva combattuto nella guerra civile italiana, cioè come brigantessa. Sono storie a cui ho cominciato a interessarmi fin da piccolo e che poi piano piano ho studiato sempre di più. E poi ho scoperto appunto che riguarda il passato di noi tutti, che riguarda il passato di noi italiani. Il rapporto mai risolto veramente tra il nord e il sud ce lo portiamo dentro e dietro. È una delle tare del nostro paese. La storia di Maria Oliverio è come una gemma, è l'unica donna che arriva a guidare una banda di briganti. Ed è una storia che ha a che fare con passioni feroci. Quindi è una storia che racconta di un rapporto familiare, ma soprattutto di un rapporto con una sorella. Un rapporto di odio e di amore con questa sorella. E poi c'è un rapporto di amore feroce con il suo marito. L'italiana deriva proprio dal modo in cui durante la guerra civile italiana i cacciatori delle Alpi, i bersaglieri, i soldati sostanzialmente dell'esercito del nord chiamavano coloro che combattevano al sud. Finora i miei libri sono composti da due lavorazioni completamente differenti. La prima è quella che ha a che fare con materiale derivato dalla realtà. In questo caso appunto un lunghissimo lavoro di documentazione d'archivio. Una volta finita questa prima parte del lavoro, che è la parte diciamo facile, c'è tutto il resto, no? Dimenticarsi quasi completamente di tutta la materia e scrivere un romanzo. Sono due modi di lavorare totalmente differenti, ma che nei miei libri sempre coesistono. Forse siamo tornati ad un punto della storia in cui abbiamo ricominciato a pensare che una rivolta sia possibile. Prima ancora che una rivolta diciamo così nel mondo, cambiare il mondo. Ma il mondo davvero si può cambiare, anzi si cambia solo nel momento in cui ci sono persone che pensano di poter diventare chi sono destinati ad essere. Cioè che scorgono quella fiammella che ci abita tutti. Ci sono momenti storici in cui quella fiammella non si scorge, si scorge tutt'altro. Noi vediamo fiammelle ovunque e ci divertiamo, no? Penso agli anni 80, agli anni 90, ma la fiammella dentro non si vede. I giovani sono tornati a immaginare un mondo diverso. C'è stato un momento precisissimo in cui ho capito che la lettura e i libri erano una cosa fondamentale della mia esistenza. Avevo 11 anni, pensa a te. Stavo leggendo un libro che ci aveva dato da leggere, la mia professoressa di Italiano delle Medie, Narciso e Boccadoro di Armanesse. Quel libro mi ha, in maniera totalmente misteriosa, quasi mistica, anzi mistica proprio, mi ha mostrato quale sarebbe stata la mia strada. Pensa a 11 anni. Ho saputo che avrei fatto lo scrittore. E naturalmente non ci ho creduto neanche per un secondo all'inizio, era una cosa stranissima. Poi dopo appunto ho dovuto arrendermi e qualche anno dopo ho cominciato a scrivere, no? Ho cominciato a scrivere le prime poesie, i primi versi, a mettere delle parole nero su bianco. Ecco, il piacere, che poi non è un piacere, è qualcosa di molto più profondo, che mi dava al tempo scrivere una parola nera sul foglio bianco, quindi rompere il silenzio, quella cosa è rimasta immutata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS